Ancora non riesco a similarlo, è stata una gara che ha voluto stare concentrato dall'inizio alla fine Credeva che quando mi ha messo primo che riuscire a fare un distacco e dopo ho visto che c'era uno attaccato Ho provato a passare, l'ho tenuto, ho resistito e una vittoria fino alla volata della prima curva alla ultima Molta soddisfazione Adesso sarai l'ago della bilancia per la lotta al mondiale tra Biaggi e Aslam Io faccio la mia gara, mi ha divertito tanto, io sono un partecipante in più che in questo momento non gioco il campionato Però farò la mia gara, spero non decidere per loro, però sono loro che faranno il campionato, lo prenderanno e lo vinceranno